È iniziato da qui il viaggio di un giornalista retino, Marco Botti, che per conto di Unicop Firenze doveva raccontare i luoghi simbolo del popolo ebraico ad Arezzo. A pochi passi da qui c'era una sinagoga in via di Seteria e poi il campaccio degli ebrei dove c'è anche un monumento dedicato alla Shoah. Purtroppo questo viaggio virtuale è stato interrotto da incursioni neonaziste. L'intento era quello di disturbare e interrompere l'iniziativa perché hanno iniziato da subito, come io ho iniziato a parlare, loro erano già pronti in maniera certosina a intervenire e l'hanno fatto in una maniera squalida perché hanno iniziato a bestemmiare. Poi sono apparsi video di raduni neonazisti, immagini di svastiche e simboli loro vari, canzoni del ventennio registrate e nella chat abbinata a Meet hanno iniziato a rotazione a scrivere slogan, minacce. Ti facciamo saltare con un botto, ti hanno scritto. Ti era mai capitato nella tua carriera da giornalista? Mai, infatti la sensazione iniziale è stata quella di stupore perché era qualcosa che avevo visto in tv. Poi la seconda sensazione è stata quella di amarezza. Tanti messaggi di solidarietà nelle pagine social del giornalista e una dura condanna arriva anche dalla sezione soci della Cop di Arezzo. Il prossimo evento sarà il 30 di gennaio con il libro L'ultimo viaggio di Camillo Brezzi. Continuerai a parlare di Shoah e della grandissima tragedia dell'olocausto o questo fatto ti ha intimidito? Assolutamente non mi ha intimidito. È una domanda che mi hanno fatto in tanti da ieri sera. Hai avuto paura? No, non ho mai avuto paura nemmeno per un secondo. Ripeto, amarezza tanta ma la paura no perché poi alla fine è proprio sulla paura che giocano queste persone. Quindi il tempo di assimilare tutto e ripartire con positività e voglia di parlare della Shoah, della comunità ebraica vissuta ad Arezzo nell'Ottocento e del bello che ci circonda.